Cosa c'è nel mio iPhone? Non vi avevo parlato in specifico di questa applicazione e quindi ve ne voglio parlare. Si chiama Splice, è scritto Splice e vi consente di creare dei progetti in cui unite e scegliete voi l'ordine della sequenza, potete unire sia video che foto. Ora io posso creare un nuovo progetto e mi aprirà tutta la mia galleria di foto, tutto il mio rullino di foto. Ora magari cerco di farvi un esempio. Qui ci sono le foto che ho scattato quando sono andato all'acquario di Valencia, l'Oceanographic. Adesso seleziono, e potete vedere qua sotto l'ordine, metto insieme due foto, poi metto insieme un video. Ora ve lo faccio corto così magari ci mette anche di meno per caricare. Faccio aggiungi, potete scegliere anche il sottofondo, solo che il sottofondo è molto alto, quindi dovete abbassarlo. Io non l'ho mai provato questi... Strano, non prima venivano delle immagini, comunque questi non li avevo mai provati. Comunque ho provato così una prova, però sono troppo forti, quindi se volete ci sono anche quegli sottofondi lì. E il video parte. Ogni foto dura 4 secondi, ma potete scegliere anche voi il tempo che la foto... Cioè potete scegliere quanto la foto può rimanere fissa. Infatti, se cliccate su un video o sulla foto, potete fare modifica foto. Potete scegliere il filtro. E potete scegliere anche la durata. Quindi o 6 secondi o 4 secondi, insomma da 1 a 10 secondi. Insomma, vabbè comunque 4 secondi si capisce bene. Potete anche scriverci un testo. Qui ci sono i caratteri. E qui ci sono anche i colori. Infatti Splice l'ho utilizzato tantissimo anche per editare i miei video che vedete su YouTube. Quando ho inserito delle scritte, l'ho fatte grazie a questa applicazione qui. E potete fare la stessa cosa con i video. Adesso vi faccio vedere un po' le foto unite con i video. Abbasso un po' il volume. Vedete questo è il video. Qui c'è tutta la durata del video. E si passa subito al video, dalla foto al video. Qui, questo quadratino qui con questi triangoli, potete scegliere, diciamo, la transazione. La transazione, quindi il passaggio da un video a un altro, o da una foto a un video, o da una foto a una foto. Potete scegliere nessun passaggio, quindi arriva di colpo l'altro video. O potete scegliere, ci sono anche queste altre fantasie. Per esempio il nido d'ape è uno dei miei preferiti. Vi faccio vedere. Lo metto un pochino più indietro. Ecco. Vedete, sembra che si disperdano i pixel. Quindi, diciamo che potete personalizzare a vostro piacimento un vostro progetto, o una vostra sequenza di video. Anche una sequenza di foto per fare tipo, insomma, delle foto ricordo, potete metterle insieme. Insomma, si possono fare tante cose con Splice. E ve lo consiglio molto. Bene, il video è finito. Quattro minuti, vabbè, pensavo, volevo farlo più corto. Comunque, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Spero vi sia stato utile.